Vorresti sempre assistere a partite di questo genere. In una stagione non si ha la fortuna di vederne tante. Resta comunque un'ottima occasione per gli allenati. Di bala! Spazza di. Cross verso il centro. Libera al momento giusto. Ma tu i di... Qui deve tirare. Che conclusione! Che tiro ragazzi! Questo è un po' stupendo! Stupendo! Prima rete per la Juventus. Ha tirato un missile! Una conclusione di una potenza terrificante! Questo è un connubio di forza e tecnica. Un tiro imprendibile per qualsiasi portiere. Uno a zero dunque. Questo gol li porta in vantaggio. Ma manca ancora molto tempo. È davvero una bella serie di passaggi questa. che era un'ottima. C'è un'ottima. Chau! Un'ottima.